cosa che cosa abbiamo appena assistito ad una tappa incredibile tour de france solo la quinta tappa è già succede di tutto in classifica generale una tappa vissuta dal primo all'ultimo chilometro respirata intensamente senza un secondo di pausa come piace a me come piace a tutti noi penso queste tappe ci riconciliano con la vita e con il ciclismo e il merito di tutto questo casino di uno spettacolo che ora cercherò di riassumere nel proseguo del video è di un blef all in clamoroso della jumbo visma che ha confezionato un trappolone veramente leggendario nei confronti del way team emirates di tadej pogacar che si è ritrovato clamorosamente nudo come un piccolo re di provincia lui che abbiamo conosciuto come il re assoluto di questa generazione dei corridori oggi ancora una volta al tour de france viene spodestato e schiaffeggiato da quello che è lo scalatore più forte del mondo jonas vingegord lo sappiamo già dall'anno scorso quest'anno è migliorato e negli sforzi simili a quello di oggi del marie blanc quest'anno ha tirato fuori numeri da record su numeri da record oggi ha dato una gran bella botta a questo tour de france da oggi in poi sarà difficile pensare a come contrastare lo strapotere del danese e della sua jumbo visma che oggi si è preso un rischio veramente gigantesco al quale facevo fatica a credere all'inizio ma alla fine ha pagato in una maniera clamorosa tanto quanto l'way team emirates è stato sconfitto sotto tutti i punti di vista ma cos'è successo perché jai hindley è riuscito ad andare in fuga e il gruppo l'ha lasciato fare perché la jumbo non si è messa mai a tirare qual è stato il significato del comportamento di van hart perché l'way è invece andata subito in panic mode a differenza degli avversari olandesi beh cercherò più o meno di rispondere a tutte queste domande con le mie opinioni in questo rewind veramente ciccione di una tappa super cicciona allora seguitemi in questa avventura fino alle profondità più anguste di questa tappa pirenaica che ricorderemo per tanti tanti anni l'ennesimo capitolo della rivalità tra jonas vingegord e tadej pogacar con un jai hindley in spolverissimo che fa tappa e maglia alla run dopo l'azione più spregiudicata della sua carriera fino a questo momento almeno ma soprattutto per chi non fosse avvezzo al poker sportivo cercherò di spiegarvi cos'è un bleffolin vai con rewind si era capito da subito che sarebbe stata una tappa devastante perché fin dalle prime fasi in quei strappettini mangi e bevi iniziali che precedevano di tanti chilometri il col de sudè che spezzava in due la tappa ed era la cima più alta super nebbiosa tra l'altro superscenica ecco in queste prime fasi ad andare in fuga ci ha provato un po chiunque e quando inizia ad essere così inizia a inserirsi qualche mezzo uomo di classifica in gruppo parte una grande agitazione c'è grande comunicazione costante con le radioline per capire sempre chi ci sia davanti vedrete tutte le squadre più forti che cercano continuamente di inserire degli uomini in fuga non solo per compiti successivi ma anche per avvisare chi è dietro in ammiraglia chi si inserisce nella fuga e quindi se bisogna chiudere subito oppure lasciarla andare ci sono quei 20 secondi di differenza fra decidere se chiudere subito oppure rimandare un pochino questa decisione barra non prenderla decidere di non tirare che fanno molto spesso a differenza tanta differenza in tappe del genere perché poi se davanti si staccano in tanti iniziano a tirare in 25 e tu magari sei una squadra sola e sei tipo in sei a tirare non a caso in questo turbillon iniziale di lotta per la fuga a un certo punto tadej pogacar si è ritrovato a chiudere un buco perché aveva visto un gruppo troppo folto davanti veramente troppo grosso con svariati probabilmente uomini di classifiche di secondo piano e ha detto no no io non ci sto non voglio farmi fregare non voglio rimanere regalmente inchiappettato dalla situazione anzi ha cercato in quel momento di gappare jonas vingegord che era rimasto dietro e ha subito messo a scuola a tirare lì è stata proprio questione di frazioni di secondi neanche di qualche decine di secondi perché c'era pogacar e lì è facile ma poco dopo che poggi era entrato in quel tentativo in un altro dei vari tentativi che stava cercando di sganciarsi davanti si si è ritrovato jai hindley quasi per caso come dirà anche lui ha improvvisato si è ritrovato lì ha detto dai buttiamoci lui è piccolino magari non è stato molto visto all'inizio non ha una maglia distintiva non è uno dei due tre corridori veramente molto molto visibili e stra pericolosi per tutte le squadre anche se è il vincitore del zero d'italia l'anno scorso ed è dato da qualche mese penso come favorito se non uno dei due tre favoriti per il terzo posto del podio dietro tadej pogacar e jonas vingegord quindi un profilo del genere in quel momento in teoria dovrebbe essere inseguito non solo dalle squadre dei due leader che non vogliono lasciargli tempo gratis ma anche da tutte le altre squadre che lottano per il terzo quarto posto in tutti i loro marginal games sicuramente non vogliono concedere una fuga facile a hindley che tra l'altro in un gruppo di 37 se non sbaglio che erano non dovrà tirare letteralmente per un metro fino all'ultima salita finale e infatti è quello che è successo poi ingrediente importantissimo numero uno però in quella fuga insieme a hindley insieme anche a giulio ciccone e altri uomini vagamente pericolosi per la classifica ci sono anche fought van harte christophe laporte e tisch beno i tre grandi classicomani della jumbo visma che vanno fortissimo soprattutto van harte beno anche in salita soprattutto in salite pedalabili sono fra i corridori più forti del gruppo direttamente l'ingrediente importantissimo numero due secondo me che è stato molto sottovalutato a tutti e che in quello stesso momento michel bierg è rimasto vittima di una foratura e bierg in questi frangenti nella prima metà delle tappe è l'asso di briscola della wae per andare proprio a chiudere questi buchi per sprecarsi a maniera più assoluta lui è capace sia di tenere un'ottima andatura per tipo svariate ore e piano piano andare a riprendere una fuga sia di farti proprio la trenatona cattiva che in pochi chilometri recupera 30 secondi su quelli davanti è uno dei migliori cronomen del mondo li abbiamo visto fare più di una volta al tour de france ma in quel momento a forato infatti abbiamo visto poggi che è anche andato davanti a parlare con trentin nelle primissime fasi di inseguimento di questa fuga quando la fuga aveva 20 30 secondi solo era ancora lì a portata di trenata proprio a discutere di questa situazione vale dire ok questa fuga va ripresa c'è hindley però non abbiamo bierg e allora come facciamo bisogna fare lì un sacco di ricalcoli su tutta la sua strategia e sicuramente la ua e in quel momento ha avuto la sensazione di dover reagire subito che ci sta ai pogacar che se non è il favorito è pari favorito a vingegord di tour comunque ne ha già vinti due anche se non ha vinto l'anno scorso e ai adam yates che è in maglia gialla pogacar è secondo ai primi due della classifica generale in un certo senso sei moralmente obbligato a tirare però è stato esattamente in quel momento che è nato il blefolin della jumbo visma cos'è un blefolin beh molto semplicemente nel poker quando sai di non avere il punto migliore la cosa più intelligente che tu possa fare soprattutto se leggi bene la mano del tuo avversario e quindi sai che non hai in mano un punto fortissimo un mega mostro la tua possibilità migliore di portare a casa i soldi che sono già lì nel piatto è di mettere pressione sull'avversario mettendo sul tavolo tutti i soldi che hai dietro ovviamente non è che devi farlo così a caso deve esserci tutta una strategia tutta una serie di mosse per arrivarci ma l'ultima quella finale è quella che mentre il tuo avversario si sta chiedendo ma lo farà o non lo farà lo farà o non lo farà avrà le palle di farlo adesso e tu lo fai glielo fai in faccia così dici sì sono abbastanza sfacciato a farlo adesso tu veramente sei capace di indovinare che io non ho nulla vabbè ovviamente quando si parla di pokeristi professionisti di altissimo livello dentro questo discorso ci sono delle complessità una serie di fattori interminabili e lo stesso identico vale per una gara di ciclismo la jumbo visma in quel momento non aveva nulla in mano sì c'era van harte in fuga ma come sappiamo van harte non è un potenziale vincitore di tour de france almeno in questo momento almeno in questo momento e quindi in teoria la jumbo aveva lo stesso identico interesse ad andare a prendere quella fuga dell'uae che tra l'altro non è che fosse nuda nella fuga aveva soler e groschardner che sulla carta poi sono anche degli scalatori migliori van harte anche se molto probabilmente ormai non è neanche più così ma sarebbero anche potenzialmente più pericolosi di lui per una classifica generale ripeto sulla carta perché sono più leggeri sono degli scalatori ma in un certo modo la loro presenza non valeva niente in questa equazione secondo me avrebbero potuto usarli molto meglio quei due uomini in uae invece si sono trovati in una situazione di panic mode totale non c'era bierg si è messo a tirare trentin poco dopo si è messo a tirare l'engen che poi si è sparato gran parte del sudè ma nel frattempo il gap è aumentato è aumentato due minuti tre minuti quattro minuti in cima al sudè addirittura quando però appunto la uae è stata costretta a far tirare l'engen da due fattori il primo il fatto che bierg prima aveva forato poi avrà dovuto inseguire fortissimo proprio in quel tratto lì e quindi nelle ore successive almeno si è dovuto riposare un po prima di dare poi una treata nel finale trentin si è bruciato in quel momento solera e groschardner erano davanti la uae era rimasta in quattro quindi hanno dovuto operare una serie di calcoli sugli uomini che gli hanno incasinato tutta la giornata ma la cosa assurda in tutto ciò è stata il fatto che la jumbo nel frattempo è stata lì a guardare c'è stato veramente questo gioco a chi sbatte prima gli occhi tipo matt barnes e kobe bryant nel quale la jumbo è stata assolutamente kobe bryant sono stati lì faccia di bronzo a noi non ci interessa cara uae tu sei prime secondi in classifica se vuoi perdere il tour lasciando 20 minuti a questa fuga fai pure a quel punto tutto il mondo ha atteso la risposta dell'uae e la risposta dell'uae è stata sono un uae semplice mi metto a tirare per tutto il giorno perché non ho molte alternative non so cos'altro fare e questi qua della jumbo non fanno nulla la jumbo ha avuto veramente due palle così oggi si è presa un azzardo veramente grosso probabilmente anche con la consapevolezza che sono così forti che se l'uae avesse visto il loro blef loro magari si sarebbero messi a tirare avrebbero dichiarato la sconfitta in quella singola mano e poi sarebbero andati comunque a vincere il torneo perché tanto sono sgravi avrebbero ripreso indley per quello che serviva e tanti saluti però l'uae non ha avuto il sangue freddo di rimanere anch'essa faccia di bronzo lì e dire io me ne disinteresso sono cavoli vostri prego vai tu no prego vai tu no prego vai tu si poteva innescare una dinamica di questo tipo e invece l'uae ha ingoiato la pillola amara ha sdrumato tutti i propri uomini per tutta la giornata e alla fine è stata pure sculacciata da jonas vingegord nel frattempo tutti si stavano chiedendo cosa stesse combinando la jumbo cosa stava facendo van hart che scattava in fuga creava fughe nelle fughe prendeva punti per la gpm e tutti lì a chiedersi oddio ma il vuttone veramente si sta facendo i cazzi propri la cosa veramente impressionante per quanto mi riguarda è che oggi la jumbo è riuscita a far correre van hart abbastanza per i cazzi propri da dare spettacolo divertirsi raggiungere qualche obiettivo intermedio che magari pian piano gli costruisce una maglia secondaria ma nel frattempo a ottenere il massimo del risultato per la classifica di jonas vingegord e in più alla fine sono anche riusciti a far fare una piccola trenata al vuttone anche se forse un vuttone più accorto nelle fasi precedenti avrebbe anche potuto aiutare forse forse vingegord nella fase finale discesa e piano fino alla rome però a parte che non ne sono sicuro per niente e comunque il risultato si è stato lo stesso e il suo piccolo aiuto l'ha dato ha contribuito quando mancavano due chilometri due chilometri e mezzo dalla fine del marie blanc vaut van hart è tornato indietro e ha dato una trenata al gruppettino che era rimasto in dieci tra l'altro solo in quel momento nel quale di suoi compagni c'erano solo seppos e jonas vingegord dopo di lui è entrato cos che sappiamo essere una bestia a fare questo lavoro qui uno dei miei corridori preferiti non ho mai indossato una maschera diversa da questa seppino ancora una volta decisivo in un gran tour ha dato una trenata di 1200 1300 metri fino all'ultimo chilometro del marie blanc che da dieci ha portato quel gruppettino a tre ancora una volta nella sua carriera c'è seppos con il suo capitano e un altro contender di quel gran tour veramente un super classicone a quel punto a un chilometro dalla vetta è partito jonas vingegord e non ce n'è stato per nessuno poggi non ha neanche reagito non ci ha neanche provato è andato su del suo passo che non era un passo travolgente infatti poi è arrivato insieme a svariati altri corridori e lo stesso coss è riuscito a seguirlo per tutto il tempo non l'ha mai mollato non è mai riuscito a staccare il seppino questo è sicuramente un segnale della formalità dei pogacar che manca di quelle settimane di pausa dovute alla frattura dello scafoide e obiettivamente qua si sono viste tutte diciamo che ci sono due grandi fattori che hanno determinato questo gap uno è proprio sicuramente ragazzi non lasciamoci ingannare questa differenza di preparazione perché se uno prepara il tour per otto mesi e l'altro per sostanzialmente un mese ovviamente c'è una grossa differenza fra due atleti entrambi di caratura mondiale di un livello simile ma oltre a questo c'è il fatto che jonas vinggord è lo scatole più forte del mondo lo sapevamo già l'anno scorso l'anno scorso però fino all'anno scorso pensavamo che fosse soprattutto nelle salite più lunghe più alte più da scalatore puro il suo vantaggio nei confronti taipo gacar mentre quest'anno l'avevo già detto gli svariate forme nell'ultimo periodo in un paio di occasioni ha dato dimostrazione di eccellenza assoluta al punto di vista proprio storico su sforzi fra i 15 20 minuti circa ha battuto oggi nettamente l'ha stracciato il record del marie blanc che tra l'altro uno sforzo ben più impegnativo di quelli lì al termine di una tappa da quasi 4000 metri di dislivello 4,8 chilometri al 10 e mezzo per cento sono comunque ovviamente uno sforzo da scalatore puro infatti davanti già i hindley ha staccato tutti con lui è rimasto felix gall che poi si è staccato dopo un po' ed erano sicuramente i due scalatori migliori di quella fuga insomma jonas ha lasciato lì poggi con tutta la crudeltà del quale è capace e alla fine gli ha dato più di un minuto più di un minuto in un paio di chilometri sostanzialmente di salita uno solo da quando c'è stata separazione fra i due in quel chilometro se non sbaglio ha preso circa 40 secondi che sono tantissima roba sono un gap importante che jonas vinggord detiene su tadei e su tutti gli altri nel frattempo davanti c'era già i hindley il terzo incomodo che ora si trova in maglia gialla e anche questo però è un'altra vittoria della jumbo visma perché riescono a fare cappotto jackpot totale ma senza prendere la maglia in vista della tappa di domani altra tappa pirenaica col tour malè e una salita pedalabile nel finale però con un paio di chilometri duri alla fine e hindley ovviamente oggi si propone non solo come terzo uomo ma potenzialmente anche per qualche altro gradino del podio ha fatto una roba che vediamo quasi mai fare a un ex vincitore i gt non ex ex ha vinto l'anno scorso è giovane è in crescita sapevano tutti che era pericoloso per questo tour ma l'hanno lasciato andare lo stesso perché beh io non penso che sia stato sottovalutato penso che abbia preso molto bene una fuga epica non sa bene neanche lui come probabilmente ha sfruttato quel momento di panico dell'uae a quel punto però la jumbo ha capitalizzato proprio sul fatto che hindley sia molto forte e pericoloso e debba essere per forza rispettato perché l'uae a quel punto ha dovuto tirare per forza se non l'avessero rispettato nessuno avrebbe tirato avrebbero anche fatto un ritmo più blando probabilmente invece hanno sempre tirato di brutto per andare a riprenderli perché era effettivamente molto pericoloso e infatti se andiamo a vedere alla fine stringi stringi dei quattro minuti che aveva ha conservato solo una trentina di secondi su tutti questo tour è stato completamente detonato ora il pallino è tutto nelle mani della jumbo visma che a sua volta sarà abbastanza nuda eventualmente nei confronti di attacchi da lontano multipli ma nel frattempo avrà una solidissima alleata nella boransgrohe è una grossa fortuna veramente che ci sia questo hindley maglia zalla per loro perché altrimenti si enterebbe in quella dimensione che comunque immagino sia molto vicina nella quale tutti sanno che la jumbo è la più forte imbattibile e non si fanno problemi ad attaccarla in massa speriamo che l'OAE che Poggi abbia ancora qualcosa in serbo per noi nel corso di questo tour perché Vingegord su queste salite lo giudico pressoché imbattibile farà sempre gap su tutti vediamo eventualmente in terza settimana come si arriva però insomma mi sembra veramente messo bene Poggi invece potrebbe avere un percorso opposto potrebbe arrivare meglio alla seconda parte dei tour ma temo che questo gap in salita fra i due sia comunque incolmabile il modo in cui si può ancora sperare di avere un tour aperto dopo il Puy de Dome perché vedrete cosa farà Jonas Vingegor dal Puy de Dome a livello di numeri è un bel agguato un bel ribaltone con tante squadre che si mettono a tirare contro a Jumbo Visma all'inizio di una tappa di una fuga più o meno come oggi ma con Poggiacar dentro sono tappe come queste che ci ripagano dell'attese del hype di un Tour de France tappe che molto difficilmente troverai in altri Grand Tour sicuramente non alla quinta tappa anzi potrei dichiararla già oggi la quinta tappa più bella nella storia del ciclismo non ho controllato non so se veramente così ma mi sembra abbastanza probabile dai con questo io vi saluto Zai Hind è uscito dalle frasche come Homer Simpson Jonas Vingegor è uno degli scalatori migliori di tutti i tempi e Tadej Poggiacar fortunatamente è Tadej Poggiacar e quindi si dà ancora speranze di tanto spettacolo per questo Tour de France noi ci vediamo ai prossimi video ciao